Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. In questo video andremo a parlare di Immune, l'applicazione scelta dal governo per tracciare i contagi da coronavirus in questa fase 2. Partiamo subito col dire che l'applicazione è 100% made in Italy, realizzata dall'azienda milanese Bending Spoons, azienda molto esperta nel settore della programmazione dato che ha sviluppato app come Live Quiz, applicazione che ha avuto molto successo e che l'installazione di questa app sarà totalmente volontaria, quindi potremo anche non installarla. Però farà i suoi effetti, sarà veramente efficace se installata dalmeno il 60% della popolazione italiana, quindi da circa 35 milioni di persone. Andiamo a vedere però come funziona. L'applicazione si basa sul Bluetooth, in particolare sul Bluetooth Low Energy, una versione del Bluetooth che consuma meno energia. Cosa ottima dato che il Bluetooth dovrà essere sempre attivo e sempre operativo. Una volta installata, l'applicazione genererà dei codici randomici, degli ID, che cambiano spesso per la privacy. Quando noi incontreremo una persona alla distanza di un metro e mezzo o meno, se questa persona ha installato l'applicazione Immuni, le due app si scambieranno i codici, quindi la persona A avrà il codice della persona B e la persona B avrà il codice della persona A. Quindi sul nostro smartphone avremo una lista di tutti i codici delle persone che abbiamo incontrato. Non si sa ancora se questa lista sarà visibile o no, ma anche se fosse visibile, saranno solo dei insiemi di numeri e lettere. Da questi codici non si potrà risalire all'identità di una persona. Se da un po' di tempo la persona risulta positiva, il suo codice, con la sua autorizzazione, verrà messo in un server. I telefoni con installata l'app frequentemente scaricano i codici presenti dai server. E se un codice scaricato, quindi l'ID di una persona positiva, è presente anche nella lista di cui abbiamo parlato prima del nostro smartphone, e quindi noi abbiamo incontrato quella persona, ci arriverà una notifica su come comportarci, perché siamo stati a contatto con una persona positiva. Quindi come si può capire, per funzionare l'applicazione ha bisogno del Bluetooth sempre attivo e il Bluetooth sarà sempre operativo. Quindi questo potrebbe portare anche a un utilizzo della batteria abbastanza alto da questa applicazione. Però questo si dovrà vedere in futuro quando uscirà. Appena uscita la notizia che anche in Italia si sarebbe utilizzata un'applicazione per tracciare i contagi, si è subito aperto il problema della privacy. Beh, i rischi di privacy per questa applicazione sono veramente bassi. Innanzitutto perché usa il Bluetooth e non il GPS come si pensava, e quindi non può sapere dove siamo o dove siamo stati, perché non ne chiede l'autorizzazione e noi possiamo negargli l'accesso alla nostra posizione. Inoltre, come ho già detto, i codici che vengono scambiati sono solo un insieme di numeri e lettere, non contengono informazioni su delle persone, quindi da un codice è praticamente impossibile risalire a un'identità. L'applicazione, se siamo stati a contatto con una persona positiva, ci manderà una notifica, non ci manderà un SMS, e quindi non ha bisogno e non ci chiederà il nostro numero di telefono. Questi tipi di applicazioni, sì, dico tipi perché i muli non è la prima, ce ne sono molte già in Cina, in Giappone, in Corea, e se ne stanno sviluppando molte in Europa, si possono sbasare su due sistemi, uno più sicuro, uno meno. Il sistema decentralizzato, dove tutti i codici che gli smartphone prendono vengono subito messi su un computer generale che li raggruppa tutti, e quindi lo stato, o comunque chi ne ha accesso, può vedere questi codici e anche se non si può proprio risalire a un'identità, è meno sicuro. Abbiamo un po' di sistema decentralizzato, quindi il codice viene rilevato e rimane nella memoria dello smartphone, viene messo su un server solo nel caso la persona risultasse positiva per essere mandato agli altri telefoni. Quindi comunque vengono messi molti meno codici su un server. In Italia, dato che la privacy è molto importante, si è scelto di utilizzare il sistema decentralizzato, in particolare quello sviluppato da Apple e Google. Sì, perché Apple e Google, due aziende praticamente diverse, una che crea Android, una iOS, hanno collaborato assieme per creare un sistema decentralizzato che uscirà a breve. Anzi, le prime API, quindi le interfacce di programmazione, tutte quelle stringhe di testo che poi le aziende produttrici, nel caso di Immuni, la Bending Spoons, utilizzeranno per far funzionare l'app, sono già state rilasciate in una prima versione beta. Quelle ufficiali arriveranno circa entro metà maggio, quindi si può pensare a un arrivo dell'applicazione Immuni a metà fine maggio. Quindi non manca molto tempo. Sicuramente l'applicazione sarà disponibile sul Google Play Store e sull'App Store, non sarà disponibile sul Windows Store, perché ormai i telefoni Windows Phone sono veramente pochi. Siamo dei dubbi se sarà disponibile su AppGallery, quindi lo store delle app di Huawei, dato che è un sistema sviluppato da Google e Google e Huawei sappiamo che non vanno molto d'accordo. Quindi questo è quello che sappiamo su Immuni, sapremo sicuramente più informazioni nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Spero di aver fatto un po' chiarezza e se avete dei dubbi. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, condividere il video con i vostri amici per fargli scoprire cos'è Immuni e noi ci vediamo lunedì col prossimo video. Ciao!